Bentornati a tutti in un nuovo video di Collector Plaza. Torniamo a parlare di Grad con un nuovo blocco di carte che ci è arrivato, sono circa una cinquantina, tutte da scoprire insieme, un po' che voti hanno preso e ci sono anche delle carte molto interessanti, più forse delle altre due, ci sono delle belle chicche. Sono circa cinquanta carte di quattro persone diverse tra cui anche qualche carta mia e ci scopriamo i voti insieme ma prima vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e attivare la campanella delle notifiche perché oltre a tutti i soliti video in programma almeno una settimana arriveranno presto i voti o meglio le carte fisiche si spera gradate da PSA che aspettiamo da più di un anno e non ricordo neanche di precedenza. che cosa stia tornando per cui sono davvero impaziente e le porterò ovviamente sul canale appena arriveranno fisicamente qua non vedo l'ora per cui intanto ci gustiamo queste bellissime grad ma aspettiamo le PSA mi raccomando non mancate iscrivetevi al canale. Basta con la pubblicità andiamo avanti perché queste sono da scoprire anche perché l'ho sbirciato un attimo ma non le ho viste bene per cui anche io sono molto curioso. Allora direi di andare in ordine sono solo divise per blocco cominciamo ecco con le carte di Gabriele un caro amico che ha mandato già qua una carta molto bella una promo dell'Elite Box di Hidden Fates in inglese il trio di uccelli leggendari con quest'artwork stupendo vetrata bellissima che rimarrà secondo me impressa per molti anni che ha preso un bellissimo 10 per cui ottima partenza complimenti. Questa appunto ovviamente in inglese ma ci sono anche molte carte italiane, giapponesi c'è un bel misto. C'è anche forse una cinese se non sbaglio. Abbiamo appunto anche la versione GX Regular appunto stavolta in giapponese che ha preso 9 non male tutti 9 e 10 esultiamo perché non è così scontato che ci stiano questi voti anzi. Bene allora abbiamo Mew e Mewtwo Tag Team bellissima anche se la GX Regular è davvero bello l'artwork che ha preso 10 per cui come chiedere di meglio perfetta dai alla grande. Queste appunto entrambe arrivano da GX Tag Team All Stars insomma quel set di distampe delle Tag Team giapponese che comprende appunto anche questo Charizard Eresham sia la versione Regular sia quella Gold che sta uscendo in inglese in questi giorni. E questa ci ha preso 9 per cui molto bene comunque un Charizard con 9 non li possiamo certo schifare. Poi un altro Charizard purtroppo con 8, holo di spade scudo, non eclatante ma comunque carino come artwork secondo me. Belle poi soprattutto le holo giapponesi che hanno anche il bordo olografico. E niente ci ha preso 8, pazienza per adesso è quella un po' stata più sfortunata. Passiamo un'altra Charizard holo però del set del blocco sole e luna nello specifico T-Map che infatti cambia un po' l'olografia come vedete da quello di spade scudo. Entrambi molto carini secondo me e questo qua ha preso 9. Ovviamente entrambe ci sono anche in italiano e comunque in giapponese fanno sempre una bella figura. Qua ve l'ho già spoilerato un bellissimo 9 per Charizard VMAX che in giapponese esce in un mazzo o per la precisione in due diversi mazzi ma sempre come diciamo carta promozionale. Stupendo ovviamente sempre versione V più versione VMAX. E se non sbaglio Gabriele ha mandato tutto il trio di starter. Vediamo ecco abbiamo Blastris con 10, complimenti. Ecco e anche Venusaur con 9 per cui ha fatto un bel trio niente male. Peccato che i voti non sono uniformi per cui Gabriele mandane ancora e ha fatti un bel tris di 10. Abbiamo 9, 9, 10. Comunque ovviamente invidiabili anzi complimenti. Speriamo di essere altrettanto fortunati con le miniere ovviamente. E sì penso ne abbia ancora. Sì abbiamo Blastris che ha preso 9 sempre dello stesso diciamo mazzo tematico. E Venusaur con 10. Perfetto. Hanno invertito diciamo il Blastris del Venusaur con i voti 9, 10. Comunque direi un ottimo inizio per Gabriele che ha preso un sacco di 9, 10. Solo un 8 per cui alla grande. Poi passiamo probabilmente alle mie. Non sono sicuro. Però sa solo che ho le mie oppure quelle di Leonardo. Adesso vediamo cosa ci troviamo. Ok sono le mie che ho provato a mandare altre V shiny di destino splendente. Perché se vi ricordate e se non vi ricordate andate a recuperare il video della prima spedizione che avevamo fatto. In cui avevo mandato una per di tutte le varie shiny. Tranne il chatter che vedremo tra queste. Per cui proprio penso tra le prossime carte. E purtroppo quelle che avevamo preso 9. Ne ho mandate altre copie. E anche queste hanno preso 9. Nonostante le abbia sbustate. Le abbia mandato le più centrate che avevo. Purtroppo non si poteva chiedere chissà che. Questo ditto ci ha preso 8. Addirittura male male. Carta ovviamente che. Cioè qua bisogna anche andare a analizzare nel dettaglio che cos'è che effettivamente non sia piaciuto. Infatti qua vedo una roba che è fin troppo evidente per essere sulla carta. Infatti sarebbero da vedere bene. Ma col case non si capisce mai bene se è rovinato il case o la carta. Ma comunque un segno del genere l'avrei visto. Comunque questa 8 peccato diciamo che potevo anche non mandarla. Ne abbiamo un altro che ha preso 9. Bene ma non benissimo perché cercavamo ovviamente il 10. Però diciamo finché 9 può essere anche una questione di centratura. Comunque ci piace lo stesso come volta. Già da 8-7 così mi piacciono meno ovviamente. Lapras anche qui uno con 8 e ce ne è mi pare un altro. Questo qua invece con 9 per cui anche qui come ditto proprio una beffa. E mi sa che manderò altri ditto e altri Lapras e lo compro direttamente 10. Chi se ne frega tanto non è che costi così tanto anzi. Poi qua c'abbiamo una chicca. Infatti mi ricordavo che avevo mandato appunto anche il Charizard. Ne avevo solo uno e quindi doveva andare bene al primo colpo. Non è che adesso possiamo stare a mandarne tanti altri. Per cui attenzione ha preso 10. Fantastico. Cioè è pazzesco tra l'altro che queste le ho sbustate e hanno preso 8 e 9. Questa qui l'ho comprata e ha preso 10. Forse dovrei più spesso comprarle ed evitare di sprecare soldi spacchettando. Perché sapete che non sono stato fortunato soprattutto in questo caso qua. Comunque stupendo ovviamente. Questo qui l'avrete visto in mille salse. Però sempre bellissimo. E con 10 lo mettiamo in collezione insieme alle altre shiny. Bene. Che altro abbiamo? Uh! Qua subito è dritto al voto un bel 10. Tra l'altro Mewtwo verde, etichetta verde, tutto verde, molto bello. Soprattutto se prende 10. Abbiamo Mewtwo GX shiny di destino sfuggente. Stupenda. Questa qua ho deciso di mandarla perché ce l'avevo doppio. Ho detto facciamo che una sta nel 7 e una gradata. Per cui ottimo. Così io non sono costretto a mandare anche l'altra per riprovarci. Poi abbiamo un'altra cartona. Vedete che vi ho detto che c'erano delle cose interessanti. Cioè qua sono tre carte in fila, una meglio dell'altra. Non saprei neanche scegliere quella che mi piace di più. Se non per il fatto che c'è Aliza al solito. Però forse Mewtwo mi intriga ancora di più. Qua abbiamo una gold. Che anche le gold mi piacciono. Ma ultra necrozio ma non mi fa impazzire. Anche se è stato davvero difficile trovarlo. Così è di trionfo dei draghi. Il set speciale che ha poco da offrire. Se non proprio questa bellissima gold. Che è molto tosta da trovare. O almeno lo è stato per me. Ha preso 9. Appunto questa qui spacchettata. Ma non avevo grandi aspettative. Perché qualcosa l'avevo notato. Ma molto superficiale. Sapevo che non avrebbe probabilmente preso 10. Ma valeva la pena provare. Infatti 9 va più che bene. Poi. Concludiamo con una ex vintage. Questa qui l'ho sbustata da Rosso Fuoco Verde Foglia anni fa. Non è che sia chissà sto granché. Però Mr. Mime. Che tra l'altro c'era in due versioni in questo set. Ha preso un bel 9. Vi spoilerò che al prossimo giro ci sono altre ex vintage. Sempre di questi set molto carini. Speriamo che prendano altre tanti 9. O magari anche di più ovviamente. Allora qua abbiamo ultime due carte di questo blocco. Queste sono di Leonardo. Che è appunto un nuovo amico. Che manda con noi le carte a gradare. Per cui abbiamo un'italiana e una giapponese. Iniziamo dall'italiana. Che è un bellissimo Charizard, Ebraix, NGX, Full Art, Promo, Alternative. Tutte cose. Fantastico. Cosa ha preso? Attenzione. 8. Peccato. Purtroppo questa qui non è molto centrata. La vedo un po' sfalsata verso sinistra e in alto anche. Insomma. Leggermente decentrata. Poi non so se avesse qualche difettino. A parte il case che ovviamente c'ha sempre i pezzi di plastica della sigillatura. Adesso a posto. Comunque dai. È una bellissima carta che ci piace a prescindere. Poi concludiamo sempre carta di Leonardo in giapponese. Un altro Charizard. Ovviamente anche lui fissato come me. Figurati. Qua abbiamo Charizard e Ebraix, ma in versione GX Regular del set. Ovviamente Remix Bout. Questa qua cosa ha preso? Attenzione. Un bel 10. Fantastico. Per cui può ritenersi molto soddisfatto. Perché è sia una bella carta, sia un ottimo voto. Bene. Adesso abbiamo quest'altro bloccone qua. Che è tutto dalla stessa persona, del nostro caro amico Alberto, che si dà sempre da fare quando è ora di gradare soprattutto, o di spacchettare. Vediamoci un po' di carte sue. Ecco, questa era la famosa carta cinese che mi ricordavo che c'era in questo blocco. Infatti vedete che il retro è quello occidentale, ma la carta appunto ha queste scritte ben poco occidentali. Che ha preso 10 pure, che poi è molto fortunato, Alberto, sempre. Quindi 10 così per iniziare anche per lui. Poi, qua abbiamo un'altra super carta che è anche questa qua, sarà coreana, cinese. Anzi, forse ho detto una cavolata tra l'altro su questa. Sapete che non so in realtà se è coreano o cinese, ma possiamo vedere qua l'etichetta. Ah, tra l'altro ecco, Mewtwo purtroppo ha preso 8, ma a parte che dovremmo capirlo dalle scritte. Dovrebbero essere coreane entrambe. Non so perché mi sono fissato sul cinese. Allora, vediamo anche il nome del set, l'etichetta da vicino che non avevamo ancora esaminate. E... Ah, ecco, tra l'altro c'è scritto qua. Io continuavo a guardare nel posto sbagliato. Perfetto. Comunque, queste forse sono le uniche che ha mandato in coreano a gradare. Il resto sono italiane, giapponesi. Comunque, è bello vedere anche carte in lingue particolari. Io, tra l'altro, ho mandato carte tailandesi e indonesiane a quest'ultimo giro. Per cui preparatevi per il prossimo giro che davvero è un bel mischione di carte di tutti i gusti e colori. Allora, queste le ho girate entrambi insieme perché sono una coppia. Di promo di, diciamo, mazzi. Non so come definirli. Trainer kit, insomma. E' una delle promo. Oh, l'ho molto carina perché, diciamo, fanno coppia. E purtroppo hanno preso entrambe otto. Queste, in realtà, sono carte di solito difficili da gradare. Quando, se promo occidentali, è raro che escano in condizioni ottimali dai blister. Però, se non altro, hanno preso lo stesso voto. Per cui fanno una bella coppia come di fatto vogliono essere. Poi, continuiamo con un bellissimo Mew V Regular che ha preso otto. Su qualcuna vado un po' più veloce, tanto le conoscete. Abbiamo Pikachu V Promo. Purtroppo anche lui otto, eh. Che questo qui arriva da una confezione speciale poco felice. Un altro Pikachu che ha preso nove. Meno male, ci manca dieci. Per fare la scaletta. Quindi, a questo punto, ne mandiamo ancora qualcuno. Non penso. Comunque deciderà Alberto. Allora, abbiamo un bellissimo Espeon V Max Full Art che ha preso nove. Molto bene. Questo qua, forse l'ha spacchettato insieme a me e l'ha mandato a gradare. Molto bene. Quindi, l'aspettativa era nove o dieci. Quindi, molto bene comunque così. Poi, qua abbiamo un bel Charmillion Shiny di Hidden Fates che ha preso otto. Peccato, ma carta davvero bella e sbrillucicosa in tutte le angolazioni. Poi, questa mi piace meno. Sono, scusatemi, un po' di parte. Però, con un bel dieci, diciamo che risolleva leggermente le sorti di questo Calyrex V Max. E ce n'abbiamo un altro anche con nove. Per cui, ce n'è per tutti i gusti e tutti i prezzi. E, ovviamente, anche la versione, diciamo, Shadow Rider, o come si chiama, comunque, diciamo, la coppia di Calyrex V Max. E abbiamo, ecco, entrambi con nove. Sono andate entrambe sull'Ice, non so come si chiama, Ice Rider, penso a sto punto. Che ha preso dieci, meno male. E qua abbiamo, invece, una carta che mi piace tantissimo, che è Suicun Baby Shiny. Anche, appunto, sembra un po' una carta abbastanza normale, però Suicun stupendo e l'effetto complessivo molto bello. Ha preso nove, in giapponese, questa qua. Molto bene. Nel caso, se non la vuole, me la tengo io. Poi, Pikachu e Zekrom GX, con dieci, molto bene. Questa è una tag team conosciutissima. E un altro con dieci. Qua ha fatto proprio una bella coppia. Poi, qua abbiamo Charity Rider e Shiram, che hanno preso nove. Nove, le giro perché so che sono in tutto tre, che ne hanno andate tutte di Tag Team All Stars. E tutte e tre hanno preso nove, per cui era di stilo che fossero Mint, ma non da dieci. Comunque, sempre una bellissima carta. Poi, Blaziken VMAX. Questa qui è un po' così, dinamica, bella. Mi piace Blaziken, lo sto sempre rivalutando di più. Poi, dieci, stupendo. Quindi, molto bene. Poi, qua andiamo proprio sulle chicche, perché passiamo, penso a tutte Evolutions, o quasi. Abbiamo un bel Vaporeon V, Full Art, i Virus, ovviamente. Che ha preso nove, peccato, bellissima. Sono dei bellissimi giochi di luce. Cioè, semplice, ma beh, la Stefful Art a sto giro me l'ha impiaciuta. Anche se di solito le trovo molto statiche con anche questo Umbra. Non è che abbia uno sfondo super elaborato, però rendono giustizia. Sarà che il Pokémon è bello, quindi sembra tutto più bello, ma... È molto carino, appunto. Anche questo Espion, che ha preso, però, purtroppo, otto. Poi... Uh... Jolteon V Max. Questo qua mi pare sia promo della confezione speciale giapponese, o qualcosa del genere. Mi pare uscisse dal pacchetto promo giapponese. Questo qui l'ho visto prima. Ma purtroppo è l'unica carta che ha preso sette. Anzi no, cioè, meglio che sia l'unica ad aver preso sette. Però, peccato non abbia preso di più. Non so bene che difetti abbia. Cioè, infatti a me un po' sorprende sempre. Un po' come l'altro video che me l'ho lamentato molto nella sproporzione dei voti. Perché abbiamo sta carta in cui, boh, magari dovrei vederla attentamente, invece che tramite il telefono. Però sette mi stanche bene, ma spesso poi vedo dei sei di carte distrutte, con tutti i punti bianchi sui bordi. Quindi, non so, non ho ancora capito molto la proporzione tra i voti di grade. Questo mi ha stupito fin dall'inizio. Cioè, a volte certe carte vengono super avvantaggiate, sopravvalutate. Poi carte del genere, prese dalla busta, messe in sleeve, prendono sette. Comunque, vabbè, piccola parentesi. Abbiamo un bel Lyfeon, che ha preso nove. Molto bello anche questo qua. Ma al meglio penso sia alla fine di questa. Abbiamo Glasson. Questo qua non mi fa molto impazzire come Arthur. Perché preferisco l'Yfeon. Però questo qui ha preso un bel dieci. Bene. Poi, non può mancare Sylveon, con un bel dieci, ovviamente. Alberto, come avevo detto, molto fortunato. A parte su quel Jolteon, che poteva andare meglio. Concludiamo con, diciamo, le due più belle di questo blocco di Evolutions. Che sono Umbreon, V-Max, con nove. Ultima carta di questo blocco di Grad che ci sono arrivate è quella con l'Artwork che mi piace di più. E giuro, sì, mi piace più del Charizard mio. Per cui, questa devo recuperarla insieme a tutte le sue amichette alternative. Perché qui abbiamo, esatto, il, anzi, l'Espeon. Alternative Art. Full Art. Stupenda, davvero. Cioè, o meglio, tutte queste Full Art che hanno fatto dell'Evolution sono belle. Ditemi in descrizione. Se secondo voi ce n'è qualcuna di queste che non è bella. Perché chiedere quale è più bella è difficilissimo. Ma se qualcuna non vi piace, ditemelo. E questa qui ha preso nove. Peccato, mancava proprio quel gradino. Ma anche con nove è una carta stupenda. Anzi, anche non gradata è una carta stupenda. Comunque, fatemi sapere nei commenti se anche voi avete mandato carta a grade. E come vi siete trovati. Sono curioso perché ho trovato pareri contrastanti. Ovviamente online si legge sempre sia chi dice fantastico, sia chi dice che schifo. Per cui voglio sapere da voi come vi sembra. Ecco, come sia valutazione, incapsulamento delle carte, etichette. Diciamo, valutatele, cioè, valutatele, sì, vabbè. Dicele sia a parte, valutatele nel complesso. Quindi non solo per un aspetto come può essere il voto che non vi soddisfa, ma nell'interezza. Io rimango affezionato a PSA. Infatti spero che arrivino il prima possibile, che si riapra tutto. E si ritorni a mandare le carte dall'altra parte del mondo. Giusto per aspettare qualche mese in più. Vi ringrazio intanto, ovviamente, per la visione. Vi rimando ai prossimi video, con tutta la playlist dedicata a gradate e quant'altro. Alla prossima!